Allora, devo dire due cose alla videocamera. Ogni volta che vado in gioco con Giovanni, me ne succede sempre una. Mi buco sempre i pantaloni, oggi mi sono fatta il bagno. C'è chi si rinfresca i piedi a fine giornata, ma noi non siamo banali, no? La seconda è che ci perdiamo sempre un minimo, no? Io non vedo più sinistra. Infatti in diretta. Vabbè, a dopo. Oggi stiamo facendo la cresta didattica dei contrafforti del Torrese, giusto? Ok. Allora, abbiamo deciso che questo è l'attacco della nostra cresta, e questa è una freccia. Questo l'ha deciso più tu, Giovanni. A me non sembra una freccia, però vabbè. Però nell'alpinismo ci vuole fantasia. Sì, nell'alpinismo ci vuole fantasia, l'ha detto lui. Sì, nell'alpinismo ci vuole fantasia. Sì, nell'alpinismo ci vuole fantasia. Wow, che bello! Sì, nell'alpinismo ci vuole fantasia. 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 E' più caldissimi e l'acqua è più grande. Prendo uno. Tre, due, uno. Ah, pensavo bene. Non me lo ricordavo che si prenda. Ah, togliamo le zette. No, non riesco a resistere. Come fai? Ho vinto? Certo che vinto. Dalla torre è vinto.